L'ascolto di questa puntata è offerto da Carnidine, l'energia che fa per te. Però devi ammettere che c'è qualcosa di strano. Guarda Sonia, in ufficio non c'è quasi niente da fare, eppure lei da stamattina non alza lo sguardo dal computer. No, dico, ti pare normale? Matteo è da stamattina che non smette di ridere da solo alle sue battute. E questo è normalissimo. Invece, per quanto riguarda Sonia, starà semplicemente cercando un corso di qualche tipo. Solo che, dopo quello di capoeira, subacquea e i master in cucina molecolare, è difficile trovare qualcosa che la stimoli. Sì, tutto qui. Sedentaria. Dovrebbe provare a fare la nostra di vita. Te la immagini, Sonia, fare il muro maestro? No, e neanche tu, visto che sei un tramezzo. E non hai idea di cosa significhi essere un muro maestro. Sonia starà attraversando un momento particolare. Magari le tornano in mente tutte le esperienze fatte in giro per il mondo. La missione in Angola, la traversata del Mar Rosso. Non credo abbia attraversato il Mar Rosso. Qualchè? In ogni caso sono sicurissima che sia in un periodo strano, caro il mio giovane tramezzo. Ma perché continui a chiamarmi giovane tramezzo se siamo stati costruiti nello stesso anno? Mi stai dicendo che sono vecchia? Guarda che io ho l'intonaco disteso e un colore brillante che se lo sognano le palazzine di nuova costruzione. Ecco che Giorgia va da Sonia. Ora vediamo se ho ragione. Vecchia a me. Un nervoso! Sonia, sono molto contenta nel vederti così committed su te task. Ma ecco, in realtà oggi non hai task. Che cosa stai facendo al computer da stamattina? Salve, boss. Ma veramente non ho tasche? Perché questo tubino non le prevede. Tanto la borsetta. Tasks. Non tasche. Vabbè, che cosa stai facendo visto che oggi abbiamo il nulla pneumatico lavorativo e possiamo sospirare e reggere le pareti? Ehm, mi portavo avanti con il lavoro di domani. Oh, anche veggente. Quale sarebbe il lavoro di domani, scusa? Ehm, il... La... Le... 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 Ok, gli articoli li sai. Domani ripassiamo i verbi. Boss, ma è saltata anche la campagna per l'automobile a pedali. Ebbene... Sì. Tim, il CEO dell'azienda ci ha ripensato. A produrla proprio. Vuole fare un change molto green. Via due ruote, via la scocca e un manubrio al posto del volante. Sta ancora cercando un nome, ma io credo di avere quello giusto. Bicicletta. Beh, certo. Hanno avuto un'idea davvero innovativa. Hanno già detto qualcosa sull'invenzione delle ruote. C'è poco da ridere. Saltata l'automobile a pedali, noi che facciamo? Ma è una bicicletta o un'automobile che salta? Scusate, ma oggi sono un po' distratta. Sonia, Sonia, il giorno che non sarai distratta smetterò di avere buone idee. E quando avresti iniziato ad averne? Devo essermi distratta anch'io. Mara! Sonia, cosa ti distrae? C'è qualcosa che ti preoccupa? Posso... posso esserti utile? Vuoi... Vuoi te le vongole? Ho solo questa stanchezza molesta addosso, poi i pensieri, il lavoro, i condizionatori abbassati. Ma che c'entrano le vongole, scusa? Meglio le cozze. Ragazzi, please. Capisco che aver perso questo client stia generando molto stress, ma voglio darvi una good news. Arriva lo staggista. No, la buona notizia è che... Arrivano le cozze. Me ne smetti con ste cozze? Lascia parlare la capa e vediamo quale good news tira fuori dal cilindro. Eccola! Boss, ma la buona notizia è un cubo di plastica. Ma è almeno riciclata. Quasi quasi preferivo le cozze. Sono buonissime le cozze. L'ultima volta che ho visto un cubo del genere facevo le elementari. Ma dove sarebbe la good news, boss? Well, che bene, io osservo sempre tutto. Controllo. Esamino. E poi metto mano e ho notato che nell'ultimo periodo state perdendo smalto. Verbe, vigore, forza. Tra poco finisce i sinonimi e passa ai contrari. Ti sento. E così ho pensato di farvi questo. Regalino motivazionale per riportarvi ai fasti creativi di un tempo. Un cubo di Kubrick. Sì, Sonia. E domani ci porta anche la sfera di Tarantino. Ok, ok. Ora ci dirai che è una big opportunity. Of course, Fabio. E sapete dove sta una big opportunity? Sulla scrivania. L'ho vista. È lì. È lì. No? Matteo. Vengo al punto. Siete affaticati. Non capisco da cosa, visto che non stiamo fatturando un centissimo. Ma comunque, questo meraviglioso strumento che chiameremo Analogic Kubrick Device ha il compito di rilassarvi, rendervi creativi, trovare soluzioni e... Riparare i colori. Super! Sonia. Prima tocca a Sonia, poi a me e poi a voi. Mi sembra eco, no? E poi a voi. Nemmeno ci nomini, Mara. Ma che modi sono? È vero, nemmeno ci nomini. Ma che modi sono? Sonia, guarda che a te ci ho nominata. È vero? A me va bene, va benissimo, eh? Però... Chi mi spiega come si usa sto affare? Guarda, eh? Questo lo metti così. Mi segui? Poi fai così. Fai così. Mi segui? Sì. Poi fai... Mi segui? Ti seguo sempre. Sempre. E allora smetti di seguirmi perché mi sono persa. Ma dai, è un cubo. Cosa ci sarà mai di difficile? Dallo a me. Ecco. Fai così. Poi fai così. Che ci vuole? Mara? È un gioco da bambini, dai. Devi riuscirci per forza. Mara, stai bene? Vedi? Avrai ragione, Giorgia. Sono... Sono già più rilassata. Mara hai... Urrato? Lo aveva detto che era più rilassata, no? E infatti è calma come... È calma come un... Come una corda di violino. Non l'ho capita. Però sto ridendo. Mi sa che non stiamo messi bene, eh? Ben, perché mi guardate così? No, niente, niente. Sono cose che capitano. Un po' di stanchezza, un cubo di plastica e finisce che uno urla. Urla parecchio. Non preoccuparti, Mara. Conosco un rimedio infallibile che ho imparato frequentando lezioni di kinesthetic con un insegnante bulgaro. Mi scappa proprio la voglia di conoscerlo, questo metodo. Ci hai fatto preoccupare, Mara. Non devi fare queste cose. No, no e no. No, no, no. No. Ti rendi conto che poteva rompersi? Ma cosa? Il cubo. Giorgia ce lo ha regalato con tanta gentilezza, con tanto affetto, con tanto amore. Così un po' to match, Matteo. Era in omaggio con un giornale di rebus e cruciberba e il bidone per la raccolta della plastica era pieno. Che succede qui? Mara, che hai? Ti vedo rilassata. Come una corda di violino. Strano. L'ha detto anche Matteo. Ma sarà vero? Qualcuno mi dice che sta succedendo? Boss, quel fantastico analogic cubic device, come dire... Non è che ci abbia rilassato molto, specialmente Mara. Stavamo cercando di capire cosa fare, quando all'improvviso è... caduto. Il cubo. Mara no, Mara non è caduta. Però ha urlato. Eppure sul giornale c'era scritto Ti piacerà giocarci, non potrai più farne meno. Di Mara? Del cubo. Pazienza. Togliamo il cubo da mezzo e cerchiamo una solution per questo problema di stanchezza. Dobbiamo intervenire. Siete in burnout. Su, brainstorming. Fuori le idee. Magari tiratele fuori con calma e senza urlare. Rilassiamoci together. Come on, let's do it. All you can eat. Altro che aria di cambiamento. L'attesa dello stagista è essa stessa stagista? Attendere o non attendere. Questo è il dilemma. Buongiorno. Oh, giornata finita. Sì, tanto, tanto, tanto carina. Ragazzi, a voi è venuto in mente qualcosa per allentare la tensione. Niente cubi, sfere o parallelepipedi antistress, per favore. Non è colpa del cubo, Mara. Siamo solo tanto stanchi. E io non ho avuto idee. Nessuna proprio, nessuna. Io ci ho provato. Ma ogni volta che stava per venirmi un'idea, l'idea non veniva. Ragazzi, siamo pochi. Ci serve nuova linf, un po' di freschezza, una ventata di idee. Ci serve lo stagista. Non diciamo la Georgia, però. Non vorrei pensasse che non ci va di lavorare. Tim! Stavolta ho davvero una good news. Lo stagista sta per arrivare. Evviva! Non che sia indispensabile. Possiamo anche farne a meno. Chi fa per sei, fa per tre. Eh, Sonia. Eh. Ecco, non è una cosa che mi interessi molto. Cioè, se non viene non fa niente, ecco. E io che pensavo non aspettaste come un bambino aspetta i regali di Natale. Ma no! Parebbe comodo? Chi lo sa? Migliorerebbe il lavoro? Forse, e servirebbe come il pane perché siamo stanchi, annoiati e abbiamo bisogno di nuova linfa vitale? Non saprei. In fondo è soltanto una persona come noi. La preferirei diversa da noi. Boss, se non fosse arrivato, non sarebbe cambiato nulla. E te lo dico io che sono obiettiva e equilibrata. E certo! In fondo è solo urlato contro un cubo di plastica. Reoperative. Avresti bisogno anche tu di un analogic cubic device per allentare la stanchezza? Nelle situazioni di stanchezza fisica e mentale c'è bisogno di validi alleati. Carnidine Plus è un integratore alimentare con carnitina. E grazie al suo mix di vitamine e sali minerali ti aiuta a combattere la stanchezza e ad avere l'energia di cui hai bisogno. Carnidine, l'energia che fa per te. Integratori alimentari, leggere attentamente le avvertenze.